Allora, giro di oggi, solito giro... Palma, oggi sono fuori giri! Tanto dov'è la novità, Sonia? Tu sei sempre fuori giri! Sono fuori giri perché... perché non voglio lavorare, voglio andare a vedere delle papere! Fammi augurire che ho caldo, fammi augurire che ho sbagliato strada, buona miseria! Oh signore! Sonia, cosa stai dicendo delle papere? Le papere, tu lo sai che sono molto divertenti, rilassanti, no? Ma sei proprio fuori giri allora! Ma poi non ci sono solo le papere, ci sono anche le oche e poi ci sono anche le anatre, tu sai che non è la stessa cosa, no? Tra un'anatre e una papera c'è una differenza e poi c'è anche il brutto anatroccolo e c'è persino il paperino, pensa un po'! Ma io sto guardando il giro dei concessionari e tu mi parli di papere, di anatroccoli, di paperino? Cos'è? Mi porti a vedere un film della Walt Disney? Ma no! È fuori giri! La nostra trasmissione di papere registrata durante le riprese di auto occasioni, fuori giri! Non posso registrare con palma! Non riesco ad essere una persona seria! Scusate, cosa c'ha lei con me? Aspetti! Stiamo ridendo! Tempo al tempo! Ma neanche più ridere si può! Ma io non lo so, sto corriere espresso vuole essere troppo espresso! Tutti in retroscena, tutto ciò che non pensavate di vedere oggi in onda con fuori giri! Io volevo dire eccomi qua! Operazione 50, unica e inevitabile, solo qui da Luciano Moto potete richiedere informazioni naturalmente e consultare il sito Luciano.com Qui da Luciano... Dai! Era bella! Ciao palma, ben ritrovato a tutti! È semplicissimo raggiungerci! Potete uscire dalla tangenziale alla loggia o dall'autostrada a Carmagnola Noi siamo a casa al grasso sulla statale che... Che collega, non mi veniva! Passiamo ai prodotti più recenti, un Kuga, un... E terminiamo la carrellata con delle piccole vetture di ultimo... No, che c***o dico! Panda Cross, New Panda Cross, 1.3 Multigetto, 95 cavalli, mi piace! Quando vuoi eh! Quando vuoi fare che? Un'autovettura nuova, a chilometri zero, non un'autovettura aziendale... Pochissimi chilometri percorsi, un'autovettura aziendale con garanzia ufficiale della casa madre! Fiorino 1.3 Multijet, 75 cavalli... Non ho le idee oggi... Fiat 500 L, 1.6 Multijet... No, è un 1.3 Multijet... New Panda, 1.2, 69 cavalli allestimento, lounge, con fendinebbia, cerchi in lega... Solo zehn Quindi dividiamo... Toutogna... Solamente 8.000 i chilometri percorso, un mezzo percorso... solamente 16.000 i chilometri percorsi parliamo di new y 1269 cavalli m momo design ed eccoci arrivati al nostro reparto che copre le autovetture bmw con meno di 5 anni di vita e meno di 120 mila chilometri altre opportunità la rolandia auto di alessandra parliamo di bmw sempre bmw serie 1 diverse le opportunità non mi piace non mi piace la rolandia auto non è però solo bmw e mini è usato di ogni marca diversi suv come una volkswagen tiguan e ne abbiamo alcune per gli amanti dell'audi oggi proponiamo quattro delle nostre non lo so aspetta e per gli amanti dell'audi tante le opportunità alla rolandia auto qui ne presentiamo alcune come ad esempio una 143 cavalli station wagon avant quindi ma non mi piace perché l'ho detto male nelle nostre sedi alessandria di tortona abbiamo più di 80 auto a vostra disposizione auto aziendali quindi auto di e a vostra esposizione tutta la gamma nuova bmw moto in prova è una vastissima opportunità di auto e va le papere più belle selezionate da fuori giri auto occasioni e sempre in vostra compagnia anche la parte più divertente con fuori giri alla prossima dove sto andando a compitare insomma al di mare aiuto Sì